ciao sono il dottor max in questo video ti spiego quali sono i segni della qualità del sonno la qualità del sonno è un elemento cruciale per il benessere generale e la salute fisica e mentale i segni di una buona qualità del sonno includono sonno continuo una persona che gode di una buona qualità del sonno solitamente sperimenta un sonno continuo durante la notte senza frequenti risvegli o interruzioni significative sonno profondo il sonno profondo è una fase importante del sonno in cui il corpo e il cervello si riparano e si rigenerano una buona qualità del sonno comporta periodi di sonno profondo adeguati svegliarsi riposati al risveglio ti senti riposato e rinfrescato pronto a iniziare la giornata non sperimenti una costante sensazione di stanchezza o sonnolenza e sei in grado di rimanere concentrato durante il giorno numero ridotto di risvegli notturni una buona qualità del sonno comporta un numero limitato di risvegli notturni è normale avere risvegli brevi durante la notte ma essere in grado di tornare a dormire rapidamente è un segno di sonno di qualità cicli di sono regolari il sonno di alta qualità segue cicli regolari di sonno leggero sonno profondo e sonno rem movimento rapido degli occhi questi cicli si verificano più volte durante la notte durata adeguata dormire per una quantità adeguata di tempo per il proprio fabbisogno individuale è un segno di buona qualità del sonno la quantità di sonno necessaria varia da persona a persona ma generalmente gli adulti dovrebbero puntare a circa 79 ore a notte nessuna apnea notturna o russamento eccessivo russare o l'apnea notturna possono disturbare il sonno e influire sulla sua qualità una buona qualità del sonno comporta un sonno tranquillo e senza disturbi respiratori significativi nessun disturbo del sonno cronico la buona qualità del sonno implica l'assenza di disturbi del sonno cronici come le insonnia o il disturbo delle gambe senza riposo regolarità del sonno andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno anche nei giorni festivi o nel fine settimana può contribuire a una migliore qualità del sonno sensazione di soddisfazione infine una persona con una buona qualità del sonno si sente generalmente soddisfatta del proprio sonno e delle abitudini di sonno è importante notare che la qualità del sonno può variare da persona a e può essere influenzata da molteplici fattori tra cui età stile di vita salute fisica e mentale ambiente di sonno se hai preoccupazioni sulla qualità del tuo sonno o sperimenti problemi di sonno persistenti consulta un medico o uno specialista del sonno per una valutazione e un eventuale trattamento un sonno di buona qualità è essenziale per la salute e il benessere generale grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata